Quarto incontro per la serata, questo 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 quarto incontro per la serata, Grazie. 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 Guarda, ci stiamo scrivendo! Ragazzetti, come c'è la RAI? Come c'è la RAI? Eh, no, dove sta? Non c'è mai sporta! I diritti ce l'hanno loro! Eh, no, bene! Sì, qui! Ciao, ciao! Certi, ho messo all'estero! Sì, ho messo all'estero! No, no, no! No! Sì, però... Come? Perché le correttezza... Per andare a incominciarsi… Sono dai 5 e sono dai 8 oi 4! E scappò un po' d'oltre… Perché no? Cioè, prima non avevi un problema, no? Cioè, l'agonismo è un po' troppo, no? Ci deve essere giusto bilanciamento, destra e fuori, non ci sarebbe. Vedi vicini, vedi vicini. Dai mi contro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aspetta anche la visione là e sprecci. 3 e 5. Io ve la io. Non mangiamo un po' e adesso sono dottato. Dopo il po' Perché dopo io lo so con la fine. Quarta notte. Di chi? Di chi? No, se c'è 9 e mezzo. Non lo so. Non lo so. Non mi piace la mia giusta. Come andate, come andate, come andate. Grazie. 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 Grazie.